bellissime radio che naturalmente ci sponsorizzano vocalmente ecco con questa trasmissione e devo dire grazie grazie di cuore veramente va bene Manu allora se c'è qualche cosa tu vieni poi dopo dopo allora abbiamo rappresentante una bellissima radio a Salerno ok l'amico Donino con il radio Salerno via un grande applauso bene bene eccolo qua piacere Danilo è tutto mio sì allora io voglio solo dire due parole poi fai tutte le cose ricordiamo che il radio Salerno via ecco allora a gennaio se non ero 14 gennaio lo volevi dire tu allora 14 gennaio c'è un grande raduno veramente diciamo a livello nazionale perché ci sono dei big e praticamente come ho sentito ascoltato con questa bellissima radio che ci sarà un grande talento che praticamente chiuderà la sua performance no il grande diciamo chiuderà ah c'è una sorpresa ci saranno altre sorprese però diciamo lui sarà uno dei tanti si parla di Natale Galletta quindi però c'è la ciliegine sulla torta allora c'è ci saranno anche ciliegine sulla torta diciamo delle sorprese ho capito ho capito tutto la duratura non ci prolunghiamo sì 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 vabbè allora ricordiamo la data no io intanto prima di ricordare la data volevo ringraziare te guarda i tv nonché tutta la regia di 6 tv che ci ha voluti fortemente qui ospiti grazie a Denzo Sorrentino con il suo artista la vita della vita dell'artista ovviamente il raduno si terrà il 14 gennaio sì 2012 ovviamente presso il centro sociale di Passena Salerno il costo il costo del biglietto è di euro 10 l'ingresso è gratuito per i solidizzabili nonché per i bimbi inferiore all'età di 7 anni perfetto poi tutto il resto amici vi aspettiamo in tanti ci saranno tante sorprese come ci saranno tanti ospiti come l'artista presente qui stasera Lori Lai dove avremo l'onore di ascoltarla ovviamente poi ci saranno tanti come nico desideri franco moreno ci saranno molti cantanti allora facciamo un grande applauso ecco qua rappresentati di radio soleno grazie mille io ti ringrazio ciao talino a talino aspetta saluto Giovanni a papà a Torino colgo l'occasione per salutare mio fratello Giovanni nonché mio padre Tonino Sarecini che ti voglio augurare anche a lui una pronta e pressa guarigione ciao papà un bacione per tutta la famiglia tutti i radioscoltatori di radio salendo me in particolare a te grazie e di marco parla